Alla migliore musica, Ennio Morricone per un pugno di dollari. Morricone, scusi, una parola. Una parolina a Morricone. Dunque lei sul nastro d'argento naturalmente non ci sperava affatto. È la prima volta che viene premiato. Sì. Il cinema lavora spesso come i commenti musicali. Mi sembrava molto molto giovane, aveva questo viso abbastanza rotondo e questi occhiali come uno dei Peanuts a Charlie Brown.